Vado a fumare una sigara! Listo? Fumare fa male! C'è scritto pure! Amica di! Sì? Chi ha fatto quel disastro per terra, eh? No, noi no, noi no! Bucciardi! In castigo, eh! Ma il falegname ha sbagliato misure! Ma non ho visto, lo sapete! Ma non ci arrivo! Sono passato! No, no, non ce la faccio! Eh, non mi faccio un giro! Mi voglio divertirlo! E andiamo là! So andato pure al teatro tenda! Che divertimento! Non so se contentava tra un'altro! C'è che provo a scappare, eh! Se non ci riesco! Che sei proprio un credito! Non ce la fai! Non lo sai fare! Adesso che riprovo! Ah! Ostreghetta! Che è mai stufato! Ne ne va! Non ce la faccio! Non ce la faccio! Ah! Se adesso che riprovo! Che la faccio! Che la faccio! Ah! Allì! Vado! A fermi! Uno brinca! Bentornati al momento più divertente di Paperissima con i...